Evidentemente quindi, con tutti i miglioramenti che possono esserci, le regioni possono e devono avere un ruolo proprio per la risposta che bisogna dare ai cittadini. Anzi, io dico di più e concludo il terremoto perché so che è meglio essere rapidi e parlare più volte, però penso che adesso il passaggio importante sia da fare. Lo stiamo chiedendo, era stato presentato un emendamento poi dichiarato inammissibile in legge di bilancio. Bisogna istituzionalizzare la conferenza delle regioni. Ormai è necessario, perché per chi non lo sapesse oggi la conferenza è l'associazione delle regioni.